Portano dritta a Tortoreto le indagini sull'omicidio stradale di questa notte a Giulianova. I carabinieri del NORM della compagnia di Giulianova hanno localizzato il SUV nero con targa tedesca che intorno all'una della scorsa notte ha travolto e ucciso l'imprenditore giuliese di 60 anni Giuseppe Montini mentre attraversava sulle strisce pedonali il lungomare Spalato all'altezza dell'incrocio con via Messina. Due i soggetti che erano a bordo del SUV e che dopo aver travolto Montini si sono dati alla fuga a tutta velocità scappando per via Venezia imboccando la in senso di marcia opposto e seminando diverse auto sulla nazionale direzione Tortoreto. Ed è qui che è stato rinvenuto il borsello di Giuseppe Montini che nell'impatto era rimasto agganciato allo specchietto laterale del SUV. Decine i video di telecamere e semafori già sequestrati al baglio degli inquirenti. In caserma sono stati sentiti numerosi testimoni, tutti hanno confermato che quel SUV è arrivato addosso all'imprenditore a tutta velocità da sud verso nord e lo ha centrato senza alcun tentativo di frenata. Tutti riferiscono poi della fuga a contromano tra le vie dietro Bracegrani dove lo stesso SUV ha sfiorato alcuni camerieri fortunatamente spostatisi in tempo. In caserma in queste ore si è presentato un soggetto che verosimilmente potrebbe aver avuto un ruolo affatto marginale nella tragedia di questa notte. Sono in corso tutti gli scontri del caso. Giuseppe Montini era appena passato a salutare una delle due figlie che lavora al bar Giro di Boa. Poi si stava dirigendo verso il marcio a piede che costeggia la casa del marinaio mentre attraversava la tragedia. La salma è stata restituita ai familiari. I funerali si svolgeranno domani alle 17 al Duomo di San Flaviano a Giulianova. Unanimi i ricordi di Montini come di un gran lavoratore, una persona per bene, per anni vivaista dell'omonimo vivaio sempre a Giulianova e da qualche anno anche titolare di un caliscendi al porto. Appassionato di pesca e di moto, lascia la mogliettina e le due giovanissime figlie, Roberta e Caterina.